A pochi giorni dalla giornata nazionale del SIPERL, donazioni di organi, tessuti e cellule organizzate dall'Aido, l'Aurum di Pescara ha ospitato un convegno di grosso spessore sul tema della donazione. Ha concluso Pina Pasetti, presidente del gruppo Aido di Pescara, organizzatrice del convegno, che ha ricordato come quest'anno il Covid si sia messo di attraverso, impedendo di fatto gli incontri in piazza per spiegare le ragioni del sì alla donazione. Ma ci sono altri luoghi, per esempio quelli dello sport, i parazzetti, le piscine, i luoghi dove sempre a giusta distanza ci si può incontrare. In questi luoghi il simbolo Aido ci sarà, grazie sempre all'impegno di qualcuno dietro le quinte. Possiamo essere presenti nei palazzetti o comunque nelle palestre, nelle piscine comunali proprio grazie anche al suo impegno. C'è grande necessità purtroppo, dipesa dal fatto che ci sono tante patologie, ma anche dovuto al fatto che a Pescara accadono tanti incidenti e quindi per questo c'è bisogno di una grande attività legata alla donazione. Ma soprattutto perché è un'attività che è legata un po' anche alla sfera intima, personale, quindi riguarda un po' anche una sorta di sensibilità e gratificazione della persona, quella di donare una parte di se stessa. non sapremo mai dove andremo, ma noi seguiteremo adesso, sempre fisicamente, io penso che saremo sempre presenti nello spirito, abbiamo la possibilità di essere presenti ancora, di dare una continuità, di dare ancora un senso alla nostra vita. Grazie. 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 Grazie.